Musica Quando si parla di un'alimentazione vegetale è un concetto potente di cui mio padre è convinto. Sicuramente scopriremo delle cose che nessuno ci ha fatto presente fino ad oggi. Lei mi ha convinto invitandomi su Facebook a questo evento. Buonasera, buonasera, buonasera. Per capire come possiamo porre a tutte le persone l'alternativa di nutrizione vegetale integrale. La persona non è abituata al cambiamento ma ormai i tempi ci stanno portando ad un cambiamento e quindi avere la possibilità di esperire, di sperimentare, di provare, di capire immediatamente di che cosa sta parlando. La grande novità si chiama Detox, dei percorsi in cui le persone guidate da dei coach e da dei tutor possono fare un percorso detossinante.